future nao il 67 salone di francoforte ancora una volta gli assenti hanno torto perci al salone di francoforte 2017 i cui stand si aprono oggi per gli addetti del settore cil'automobile del futuro ma attenzione un futuro vicinissimo che vedremo all'inizio del prossimo decennio e i costruttori auto che hanno deciso di non venire lasciano credere che sui grandi temi dell'auto connessa e a guida autonoma non sono ancora pronti future nao il titolo della 67 edizione dell'international auto show di francoforte dal 14 al 24 settembre g un programma il futuro g ben visibile con le attuali tecnologie che parlano di guida automatizzata di mobility intelligente di passeggeri che possono riposare dentro la vettura mentre questa viaggia da sola basta essere connessi al mondo e ci oggi possibile temi che hanno fatto diventare l'argomento ecologista delle motorizzazioni elettriche g vecchie superate ormai soltanto da implementare su vasta scala i produttori tedeschi sono avanti audi volkswagen e bmw con rispettivamente la a8 e la serie 5 sono ormai a un livello avanzato della guida autonoma possono accelerare frenare sterzare e fare sorpassi da sole fino a 60 km all'ora ma la barriera sar presto superata i test di queste vetture avvengono ormai anche su strade ordinarie come l'autobahn a9 in baviera chiaramente chiusa al traffico ma audi ha fatto guidare una s5 sportback a guida assistita a un pilota ipovedente in puglia il salone di francoforte 2017 sare insomma la vetrina dell'attuale stato dell'arte sulle tecnologie digitali e di connessione mercedes non da meno ma ha deciso di coltivare il suo lato p sportivo complice i trionfi di emilton in formula 1 cosa francoforte ecco la mercedes amg project one una supercar ribida b posto con tecnologia derivata dalla formula 1 debutto anche per la eqa prima vettura del nuovo brand che mercedes dedica alla mobilità elettrica prototipo di grande impatto anche lx 7i performance il mega suv di bmw che avvia a retrazione elettrica tra le novite tedesche di sicuro pnc la terza generazione di porsche cayenne mentre volkswagen punta sulle piccole il suv tiroc e la sesta generazione di polo opel svela la grand land x la insignia gsi e la astra e com a metano tg com 24 seguir tutti i giorni il salone con articoli immagini e interviste dalla kermes di francoforte cui sono attese e circa 300 anteprime tra prodotti e prototipi non ci saranno n fiat n alfa romeo ma il buon nome dell'italia ben rappresentato dalle sue supercar come la ferrari portofino e la lamborghini aventadores e rodster anche peugeot e volvo nissan e mazda hanno deciso di passare la mano ma le sfide di future now valgono anche per loro per loro Grazie.